L'ultima parte è quella che si occupa dell'incrocio di due terreni, che è quella della tutela del nome e quella della tutela dei marchi, dei segni distintivi in generale. Il nome non è di per sé un segno distintivo, nel senso che il nome è il nome di una persona, quindi il diritto al nome è tutelato, come vedete, da norme del codice civile più generali, ma sappiamo che a un certo punto il nome, soprattutto quando appartiene ad un personaggio famoso, un personaggio dello spettacolo, dello sport, può diventare marchio. Cioè ci sono nomi di famosi sportivi, che sono davvero i loro nomi, quindi i nomi con cui sono registrati l'anagrafe, che però poi diventano marchio. Pensate a Valentino Rossi, o un cantante qualunque, però Valentino Rossi è un marchio che poi viene venduto, cioè lui è il suo vero nome quello, però viene poi venduto anche per fare i cappellini, le tute, gli scooter, gli stiletti. E quindi ci sono alcune situazioni in cui il nome deve assumere una valenza, che non è quella solo di nome, ma anche di marchio commerciale. Se ne parla molto adesso perché siamo nella fase del cosiddetto personal branding, per cui in generale la reputazione, la fama di una persona va a costituire tutto il suo brand. Si usa molto con gli influencer, ad esempio, il personal brand. Però leggiamo cosa dice, in generale queste sono le norme che tutelano il nome della persona. Per alcuni soggetti, ad esempio gli artisti, ma anche i professionisti, i personaggi dello sport, i principali segni distintivi in quanto persone fisiche sono il nome al quale è equiparato lo pseudonimo e la loro immagine. I diritti d'immagine non li riprendiamo adesso perché ne abbiamo già parlato bizzeffe, ne abbiamo già parlato dettagliatamente quando abbiamo fatto la parte sul diritto d'autore, qua parliamo però della tutela del loro nome. Questi segni identificano la persona e quindi la distinguono. Anche nella legge sul diritto d'autore c'è un articolo, l'articolo 83, che si occupa proprio della tutela dei nomi degli pseudonimi, dei nomi, anche dei titoli delle opere. Vi invito, non l'abbiamo fatta perché la legge sul diritto d'autore è molto ampia, non possiamo farla tutta, però se andate a legge l'articolo 83 si occupa anche di quello. Il diritto al nome è previsto e tutelato dagli articoli 6 e 7 del codice civile come diritto della personalità e come diritto alla distinzione. Parliamo della persona fisica, quindi l'essere umano che ha il diritto ad essere distinto da suo cugino, o da suo fratello o da suo padre, quindi è un diritto dell'essere umano e della personalità, quindi siamo ancora fuori dall'ambito dei marchi, però sappiamo che appunto, come spiegato, può diventare anche marchio. Consiste infatti nel potere di uso esclusivo del nome da parte del titolare. Secondo il codice della proprietà industriale, all'articolo 8 si parla proprio della tutela del nome, dice che i nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, quindi parliamo di, quando dice registrazione parliamo di registrazione di un marchio, quindi siamo in quegli articoli che spiegano cosa si può registrare e cosa non si può registrare come marchio. E questo comma 2 dell'articolo 8 si dice che appunto i nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione, cioè io sono l'imprenditore tizio che però vuole registrare il marchio che non è tizio ma è caio, ok? Quindi io sono la Yamaha, l'azienda che realizza le moto, e voglio registrare il marchio Valentino Rossi. Questo è il caso di cui si sta occupando. Quindi Yamaha che non registra il marchio Yamaha, che ce l'ha già, ma vuole registrare il marchio di un suo nuovo motociclista. Questo non è nuovo però, c'ha più di 40 anni ormai, però ipotizziamo che un po' di anni fa, 20 anni fa, volessero fare una cosa del genere, no? Ed è quindi la situazione in cui ci troviamo. I nomi di persona diversi da quelli di cui chiede la registrazione possono essere registrati come marchi purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha il diritto di portare a tali nomi. L'ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione del marchio, quindi il marchio che corrisponde al nome, al consenso stabilito al comma 1. Cioè il comma 1, che io qua non vi ho riportato nella norma, dice che il titolare del marchio, scusate, il titolare del nome, il portatore del nome, la persona portatrice del nome, deve dare il suo consenso alla registrazione di questo marchio o all'utilizzo del suo nome come marchio. In ogni caso la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta. Vi ricordate che abbiamo distinto che cos'è la ditta, la denominazione di un'impresa. Interessante il caso Fiorucci per il confine tra nome e marchio. Elio Fiorucci, di qua dovete semplicemente leggere la storia, Elio Fiorucci è uno stilista che a un certo punto ha venduto il suo marchio che corrispondeva al suo nome, perché lui si chiama davvero Elio Fiorucci, cioè non è un nome di fantasia, non è uno pseudonimo. E poi è nata tutta una diatriba giudiziaria con la Edwin, che è una società che appunto aveva acquisito il marchio Elio Fiorucci. In sostanza cosa è successo? Facciamo prima leggere, però. Il titolo all'inizio è un po' provocatorio, dice Elio Fiorucci si riprende il suo nome anche se aveva venduto il suo cognome. Lo ha deciso il Tribunale di primo grado dell'Unione Europea in un procedimento intentato dallo stilista contro la multinazionale giapponese Edwin, alla quale aveva ceduto la sua società nel 1990, con l'autorizzazione all'uso del marchio Fiorucci, ma senza fare alcuna menzione al nome di Battesimo Elio. Ovvero lui aveva ceduto la società e nell'asset, solitamente quando tu cedi la società, cedi anche i vari marchi che ad essa sono connessi. E in questo marchio, scusate, e tra questi marchi, c'era proprio il marchio Fiorucci, che corrisponde al suo cognome. Fatto sta che nel 1997 Edwin chiede la registrazione del marchio europeo Elio Fiorucci. Cioè cosa fa la Edwin? Onde evitare che lui riprenda a fare l'attività di stilista e crei confusione, dice io per sicurezza registro anche Elio Fiorucci, in modo tale che nessuno può farmi concorrenza, cioè nessun'altra azienda possa chiamare come stilista Elio Fiorucci e dire tu utilizzi il tuo nome e cognome e così torniamo a fare concorrenza alla Edwin. Edwin dice io ho pagato Fior di Soldi per avere l'azienda e per avere anche il marchio Fiorucci, io mi tutelo e registro anche Elio Fiorucci. Però questa cosa allo stilista non va giù. E infatti nel 2003 si rivolge all'ufficio marchio europeo, l'UAMI, e in una prima decisione l'UAMI gli dà ragione. E dice ok, tu ti chiami Elio Fiorucci e quindi hai diritto a inibire, a evitare che una società commerciale registri questo marchio e quindi ti porti via la possibilità di utilizzare il tuo nome e cognome come marchio. Però poi, di fronte a un ricorso, l'UAMI dà ragione a Edwin e quindi sostanzialmente gli consente alla Edwin di registrare il marchio. Quindi Fiorucci avvia la causa di fronte al Tribunale dell'Unione Europea il quale stabilisce che a norma di regolamento numero 4094, che era il regolamento all'epoca in vigore, il marchio comunitario è nullo se la sua autorizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore. E in questo caso il diritto anteriore è il diritto al nome. Perché è un diritto che nasce nel momento in cui tu nasci, cioè in cui nasci e i tuoi genitori ti decidono di chiamarti Elio e per cognome li chiami Fiorucci. Quindi, non essendo quello un nome di fantasia, si poneva il problema del conflitto tra un marchio registrato posteriormente e il suo nome, che è comunque un diritto acquisito nel momento in cui nasce. Sui nomi a dominio abbiamo già detto cose. Cioè i nomi a dominio sono nomi, ma sono nomi di un server. Voi sapete che su internet si può navigare anche... Cioè noi possiamo arrivare su un sito web indicando una stringa di cifre, quattro cifre divise da un punto. Però poi, visto che questa forma di indicazione, di individuazione di un sito web in forma numerica era molto scomoda, molto difficile da ricordare, allora ci si è inventato la soluzione del nome a dominio, cioè far corrispondere a quella cifra una combinazione di parole, di lettere, perché è più facile da ricordare. E quindi quando io digito www.aliprandi.org nell'internet c'è qualcosa che dice all'utente che sta digitando quel sito di andare sul sito di Simone Aliprandi, che è un avvocato divulgatore italiano, che ha registrato questo dominio che si chiama aliprandi.org. La questione dei nomi a dominio è interessante, l'abbiamo vista anche nella discussione del caso Armani, Giorgio Armani contro Luca Armani. Non ci torno, è stata una lezione che abbiamo fatto molto interessante, quindi vi invito ad andare a riguardare quegli articoli. Però sì, il tema dei nomi a dominio ha aperto tutto un mercato, adesso ci sono aziende che di lavoro fanno quello, registrano il nome a dominio e li rivendono, aspettano che assumano valore, che aumentino di valore e poi li rivendono. E quindi è diventata una nuova branca dagli anni 2000, fino agli anni 90 in poi, una nuova branca del diritto alla proprietà intellettuale. Dice la slide che racconta la storia di... ci spiega un po' come funziona il discorso del nome a dominio, cioè il titolare di un marchio può opporsi all'adozione di un domain name uguale o simile al proprio segno distintivo se possa crearsi un rischio di confusione o anche un semplice rischio di associazione tra i due nomi. E qua ricadiamo pienamente negli argomenti che hanno tirato fuori gli avvocati di Giorgio Armani, no? Vi ricordate? Indubbia è la funzione distintiva del nome a dominio. Esso non può essere ritenuto un semplice indirizzo telematico. E ciò perché la scelta del nome dell'indirizzo non viene fatta a caso, ma richiama sempre l'attività svolta dal titolare del dominio attraverso la coincidenza con il nome del proprio marchio, ad esempio. Il domain name, infatti, non svolge solo una funzione telematica di codici, cioè di, appunto, corrispondenza di un insieme di lettere ad un server che mi fa accedere a un sito, ma è volto anche a identificare sul mercato l'azienda e a tirare l'attenzione degli utenti sulla rete. Esso, dunque, non può essere considerato solo un semplice indirizzo volto a consentire all'utente l'accesso al sito. Questa qualificazione, però, non può essere fatta in via generale per tutti i nomi e dominio, ma secondo il Tribunale di Bergamo, famosa sentenza Armani, vi ricordate, necessita di un vaglio caso per caso. A seconda, dunque, delle circostanze e avuto riguardo alla configurazione del sito, si potrà ragionare se equiparare il nome e dominio a un segno distintivo del tipo marchi di impresa con conseguente applicazione della specifica normativa di legge. Questa cosa qua l'abbiamo già spiegata. Quando il Tribunale di Bergamo è stato investito di questa causa tra Giorgio Armani e Luca Armani, tipografo, timbrificio di Treviglio, si è trovato a dover regolare, a dover decidere una situazione concreta, a un caso concreto, sulla base di norme mancanti, nel senso che non aveva tutta questa normativa applicabile, perché era ancora un fenomeno nuovo, quello dei nomi e dominio. E allora ha cercato di capire come, in quali termini, cioè il giudice ha cercato di capire come, in quali termini, potesse all'epoca applicare la normativa sui marchi anche ad un caso di nome e dominio. Con il tempo poi la questione è cambiata, nel senso che i nomi e dominio sono stati via via regolamentati, ci sono adesso delle linee guida un po' più stringenti, però ecco, questo è sicuramente un caso interessante. L'articolo, questo estratto che vi ho letto, viene da un articolo di Angelo Greco, che è un legale, un avvocato, che scrive per il sito La legge per tutti, e intitolato La tutoria del nome e dominio, vere e proprie opere d'ingegno, il caso Coca-Cola. Ve l'avevo citato quando abbiamo parlato del caso Armani, cioè il fatto che all'epoca si facevano anche nome e dominio che sfruttavano l'errore, perché non si passava da Google, si digitava a mano www.coca-cola.it, allora la gente ogni tanto sbagliava e capitava, invece di che cercare Coca-Cola, cercava Coca-Cola, arrivava su Coca-Cola. E se andate a leggere il racconto di questa sentenza, siamo un po' su una situazione simile a quella di Armani, per cui questo sito, era un sito di informazione Coca-Cola, si parlava un po' di tutto, sfruttava molto questo aspetto della confusione, dell'errore per cui uno batteva una lettera in più. Però in quel caso, se c'era il rischio o meno di confusione, allora faceva scattare l'apparato di norme in materia di marchi. Però ecco, ripeto, dovete andare a leggere, perché il caso è un po' più complesso di come ve l'ho raccontato adesso, semplificando. Ultima, ma non ultima, nel senso che questa è una norma che entra in gioco, vedete, ho intitolato dove non arriva il diritto dei marchi, arriva la norma dell'articolo 2598 Codice Civile. Cioè, questo è l'ultimo baluardo degli avvocati che si trovano a dover agire per un cliente che ha subito una violazione, però non si trovano elementi sufficienti, diciamo, per poter sfruttare le norme sui marchi o anche quali sono i nomi e dominio. Allora si torna, diciamo, si cerca di fare riferimento a questo articolo 2598 Codice Civile che si occupa di atti di concorrenza sleale. Quindi non siamo davvero nel mondo del diritto dei marchi, ma siamo in un altro campo del diritto che è appunto quello delle norme sulla concorrenza, le quali però prevedono tra gli atti di concorrenza sleale alcune situazioni che adesso vi vado a leggere che, diciamo, toccano anche l'aspetto dei marchi, dei segni distintivi o dell'imitazione servile di un prodotto. L'imitazione servile per un prodotto è quella che alcune aziende di cellulari muovono contro l'altra, cioè, c'è stato per un po', che ne so, Apple sosteneva che Samsung non facesse altro che aspettare l'uscita del nuovo iPhone per fare poi il suo modello che andava in quella direzione lì, quindi era un'imitazione servile, poi ovviamente non è quel testo anche di cui sto semplificando molto, però è una situazione del genere, cioè il attendere, vivere, diciamo, di rendita e di imitazione di quello che è delle scelte commerciali, delle scelte strategiche e di design di un altro concorrente. Quello, anche se non è di violazione di marchio, anche se non è di violazione di design, può diventare atto di concorrenza sleale e quindi tutelato diciamo ai sensi dell'articolo 2598. Ci dice quindi questo articolo che ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, quindi dice la norma, al di là di quello che si stabilisce a livello di marchi, segni distintivi e brevetti che sono sempre validi, comunque compie atti di concorrenza sleale colui che usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri quindi non parla di registrati ma usati oppure imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente quindi il primo caso della concorrenza sleale è appunto qualsiasi attività che cerchi di creare confusione di agganciamento con la fama di un altro produttore che che mi traina limitare servilmente i prodotti ok secondo caso è atto di concorrenza sleale diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinare il discredito oppure sia proprio di pregio di prodotti dell'impresa di un concorrente quindi questa è un'altra forma cioè anche se non violo un marchio un brevetto un design o non uso non creo confusione però cerco di diffondere informazioni che che discreditano i prodotti e i servizi del mio concorrente oppure io cerco di acquisire i loro pregi io cerco di far passare per meriti miei quelli che invece sono di altri no e questo è il secondo caso e poi c'è il terzo che è proprio l'ultimo baluardo è un caso che insomma si cerca è un po' come dire è un po' generico e quindi lo si richiama quando davvero non si hanno altri argomenti compiati concorrenza sleale colui che si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l'altro di azienda e idoneo a danneggiare l'altro di azienda quindi anche tra professionisti anche tra un avvocato e un altro avvocato tra un ingegnere e un altro ingegnere tra uno studio di design e un altro studio di design tutti quei comportamenti che possono in qualche modo essere fuori dalla correttezza professionale fuori dalla diciamo da quella comune competizione che si crea tra studi tra professionisti tra aziende ed è mirato a danneggiare l'altro di azienda idoneo a danneggiare l'altro di azienda allora è qualificato come atto di concorrenza sleale questi tre casi li dovete sapere perché sono cioè non dico che dovete sapere la norma a memoria però sapermi dire che c'è il primo caso è creare confusione e imitare servilmente il secondo caso è cercare di prendersi dei meriti o gettare discredito il terzo caso è diciamo quello più generico più aperto che è la non correttezza e il danneggiamento dell'altro di azienda ok basta così si chiude la parte sui marchi e anche appunto abbiamo toccato la parte sulla concorrenza sleale vedremo scusate ultima nota che questa norma della concorrenza sleale torna anche nel campo del design quando parleremo del design vedrete che perché c'è qua l'imitazione servile cioè imitare un prodotto vuol dire anche imitarlo nelle sue forme è il caso della Vespa contro l'impresa cinese che faceva gli scooter no ok comunque ripeto ci torneremo quando parleremo di design